Sono passati solo pochi giorni dalle prime presentazioni ufficiali tra Sofì Codegoni ed il fratello di Gianmaria Antinolfi, Francesco Perillo, ma pare che quest'ultimo si sia già fatto un'idea netta sulla giovane extronista di Uomini e Donne, alla luce degli ultimi accadimenti nella casa del GFV. Sembra ormai che sia già finita ancora prima di iniziare la conoscenza tra Sofì e Gianmaria. Forse per questa ragione il fratello minore di Antinolfi avrebbe commentato duramente la giovane. In uno scatto di oggi sul profilo ufficiale del reality, protagonista è Sofì Codegoni in versione Halloween. Francesco ha commentato in modo piccato scrivendo, forse quella non è una zucca, con tanto di asta d'emblematico. Falsa. Ormai tra Sofì e Gianmaria la storia sarebbe giunta già al capolinea. Dopo un loro avvicinamento dei giorni scorsi, i due hanno avuto una discussione che sembra aver confermato il loro allontanamento. La causa sarebbe l'atteggiamento troppo altalenante del ragazzo. Voi cosa ne pensate delle parole del fratello?